Con Fabio Borini, Fabio stai cominciando a realizzare un po' quello che sta succedendo, indossare questa maglia e cominciare a indossarla? Sì, perché vedendo il museo, lo store, più il museo che lo store, si capisce veramente che la storia è grande, il club è importantissimo e far parte di questa grande squadra non può solo che fare onore e essere un orgoglio. All'interno del museo c'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare e ti abbiamo visto avvicinarti subito alle Champions? Fa sempre una certa sensazione vederle da così vicino e ovviamente è il traguardo più ambito da tutti i giocatori anche con la Coppa del Mondo quindi essendo un torneo così difficile e averne vinte sette non è mai una cosa semplice. Questa mattina sei stato anche nel centro sportivo di Milanello, che impressione ti ha fatto, le strutture, il centro in generale? È assolutamente un bel centro, campi ottimi ovviamente e le strutture sono consone a quello che è la società e vanno sfruttate per migliorarsi e così farò. È fatto anche da subito molto bene in testa, chi ben comincia viene da dire. Sì, in teoria sì, quindi mi sono preparato bene in estate e i test hanno dato le risposte giuste e da seguire. Adesso chiaramente poi si inizierà a lavorare sul campo, quanto voglio c'è di mettersi il prima possibile a disposizione del mister di iniziare effettivamente questa nuova avventura? Ah, tanto, io avrei già iniziato anche oggi pomeriggio dopo i testa, anche se la stanchezza magari un po' c'è, però aspettiamo solo un paio di giorni e poi si inizia tutto e non vedo l'ora. Si dice che sei il classico giocatore che piace agli allenatori, intanto ti chiedo se hai avuto modo di sentire Vincenzo Montella e poi cosa ti aspetti, cosa vorresti da questa stagione? Sì, ho sentito il mister per telefono una volta che il trasferimento era sicuro, mi ha dato molta fiducia, mi hanno detto che era contento, io pure, quindi positivo e sì, niente, quindi aspettiamo l'inizio. Hai già avuto come compagni Alessio Romagnoli, Suso, gli hai parlato, ti hanno detto qualcosa, cosa ti aspetti quando li rivedrai? No, non ho ancora parlato con nessuno, solo famiglia, amici stretti che sono uno abbastanza privato su queste cose, però li vedrò solo fra due giorni, quindi sarò contento di vederli. Una stagione importante quella che si prospetta, una stagione con le Milan torne in Europa, che voglioci di far bene anche in campo europeo, di riportare questa maglia dove li competa? Ma è veramente importante perché sono i campi che il Milan deve calcare ogni singola stagione e partendo dall'Europa League con i preliminari è un passo alla volta, però va fatto e lo faremo bene. Delle ultime cose, la prima si parla tanto della tua duttilità, moduli diversi, situazioni diverse, ruoli diversi, c'è qualcosa che preferisci o totale disponibilità? Sì, non troppo diversi, cioè in porta ci devi giocare il portiere, in difesa i difensori, però sì, davanti posso fare qualsiasi ruolo e ovviamente quello che ha bisogno la squadra, ho imparato negli anni passati in Inghilterra, bisogna farlo e si è sempre a disposizione. Personalmente invece il tuo obiettivo per questa stagione qual è? Cosa ti poni? Non si dicono gli obiettivi personali, non l'ho mai detti per neanche un po' scaramanzia, ma per motivazione personale, ma li raggiungerò. È un sogno che si realizza o il sogno inizia adesso? È un sogno che si realizza e che adesso è verità e si inizia a lavorare. Grazie mille davvero. Grazie. Grazie.